Mi fate vloggare, non facciamo casino pure qua! Che poi... Ma guarda quello! Allora, fatemi vloggare! Allora... Cosa? Eh se adesso lo metto a tipo selfie? Allora... Non fate casino pure in metro, raga! Che c'è se siamo... Mi devi pagare per la mia apparizione in metro! Devo pagare se non danno il copyright per la musica di Taccito l'occhio! Dico Putin! Allora... Oh c'è... C'è Gesù! C'è Gesù! Qui là qua! Oh! Oh! Il cazzo! Il cazzo! Porca puttana! Beh! Cosa ho dicendo? Cosa? Porca puttana! Oh! Mi stava facendo... Ziti ziti... mi stai a far cadere porca puttana il momento epico porca ma chi se mangia sempre i compatacchi e poi cade che cazzo è successo mi capisco cosa è successo lui stava cadendo da tipo oh cosa è successo ma stai ricascando mi fate bloccare allora non fumarmi oh porca puttana mi fate bloccare in pace allora vangulo e si sbutterà l'occhio con la retina allora oggi che sta fumando fumo già in due minuti abbiamo già fatto casino al mio vlog perfetto qui stiamo andando da qualche parte a torino questo qua prima stava cascando pure non lo so alluccava che cacchio mi schiaccia la scherpa dove stiamo andando allo 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 non lo metto su youtube allora allora mi fate vloggare in pace porca miseria siamo in tre youtuber qua del fango tube e e poi c'è lui che si mangia le bagnicaude porca puttana attenzione per questo video richiede un pubblico e semente è adulto allora cosa hai fatto david ricapitola piano 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 un boss chissà luca no scena epica prendi la scena eh vabbè 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 Nicolo è già paura di che oh un muro piano piano con i chianielli i chianid piano piano chi so pericolo bella questa alla battreno che pazzi acchiappalo acchiappalo oh allora cosa lanci i leoni come me lanci i leoni? uccindolo cosa faccio io? allucco allucco vabbio neppe starà ah si non lo sapevo strada ma di torino allora adesso adesso domani cioè gli devo andare a chiederlo adesso domani vabbè sono adesso sei adesso adesso giusto? allora adesso 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 no ma non lo metto su youtube allora sti cacchi vedi che vedi che allora vi vi cresce allora non mettete le mani in faccia che cresce il brufolo cresce il brufolo vi attruzzoli i tre tremono e e chi se fa minimo con quattro b allora fangotube descrivi cosa faremo oggi a parte i deficienti cioè da quello non si scappa quindi quindici e disperi cosa fanno? che cosa state facendo? si guardano vedi appassionatamente con la lingua vai vai la 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 capa davanti è possibile ogni due secondi ma perché hai gli schiaffetti i pacchi? perché allora gli deve fare crescere il brufolo vedi vedi è lui eh davide ma come hai fatto prima a romperti oh il naso il naso il naso il naso cacca in live che cazzo è successo? finisco sto vlog anche se non era un vlog video cazzo e boh ciao riga come si cos'era lui? ciao